sembrava un'altra ok devi più al filiarello dato no ti vendeva la proprietà da 80 mila non ce l'avevamo mai no skyrim forse pippa e l'acquedotto vai vai st'acquedotto che vuoi fare se vuole meno a quelli pure più tardi sotto si questa è la moglie ecco e qui eccolo mamma mia che sega sto figlio tu cazzo scappi ora è l'UTS si che ha il braccialetto e libertà come si chiama di girar ma che lo devi anche ferrare oh non ti arrendi vero io che pensavo gli arisen fossero dalla parte dei deboli ah ma che importa il figlio io so che seppone non trova più il lavoro il mio padre non può resistere contro un uomo così potente e così sia quella casa era un porcino e non mi mancherà e ora se non altro vattene dalle palle ok però rimane rosso chissà forse ok ti dice che i ariseni non aiutano perché non aiutano la povera gente perché non l'aiuti uccidi quello o no lui era ok se ne possiedi altro hai qualche rarità da vendere a parte se tu vendi delle cose tue forse ma lo guarda aumenta un po' la stanza artistica vabbè ma lui non le vende io ho quei canzoni che ho messo le canzoni ma lui lo vende dai tanto che quando sei a 10 mila che mi arriva a 80 mila che però ah no forse devi riparlare col subappo non lo so il babbo del figlio no devo comprare l'aria esatto quelle là eccola chiedi a lui il suo marito no quello è il barone il barone crasson oh il figlio eddo sarà era qua su prima era qua su prima mamma mia ma il tuo cazzo è nato non credo ne è riannato già a casa what the c'era un quasi verde ma perché era sbagliato volevo usare se è riannato giù al fianile o con niente se vede lancia lancia gente un po' ovunque se ne è qui salvamo questo qua non è che si questa è marina questo è lo zappatore guardate il finire non c'è chi è oh ma non c'era prima non c'era però forse non è manco tanto lontano e via la gente non ti aiuta poi te lo dice il gioco è troppo divertente eh ho capito ma no lo voglio rovinare ormai ormai non te ne da far restare mai dici e tu perché schippi i dialoghi ma quello prima ti ha detto la gente ti guarda male ma dai sì e te spingi che mi va a leggere ok uno se ne va mi vergogno abbi pietà di noi e ce l'avevo è una miseria 30.000 per farne 100.000 milioni di anni vabbè salviamo e via beh stasera registrato solo 10 giga 3 2 1 2 ben tornati su Drago's Dogma con Johnny Pass e Frankie Romano che abbiamo scoperto ho semplicemente comprato con gli abbonamenti Xbox Live sì abbiamo rinnovato l'Xbox Live e guarda un po' è la prima volta che vedo una cosa del genere da anni marketplace Xbox Live che ci fa scegliere allora non ti chiedi paga no ma ti chiede punti classe per per lo meno se non avrebbe scritto euro o soldi pacchetto cristalli della faglia value pack cristalli della faglia cioè sono cose rarissime oggi come lo succede prova un attimo ma probabilmente ce l'abbiamo 2.000 adesso paghi guarda vediamo vediamo un po' se la connessione ci assiste che sto caricando un video un video un video ma sono aggiornamenti del 2013 questi non è che sono usciti una settimana fa che poi che saranno questi cristalli della faglia e vabbè io annullerei ma tu non si partì fatto a pagare ma nessuno si perché sto caricando un video allora sai che qui taglierò tutto taglierò solo le parti interessanti si ciò che ti può ripartire anche da qui no no vabbè era una riflessione interessante capisci oh dunque allora la sensazione no tipo quando vai a fare un viaggio in una città sconosciuta che scendi e ti trovi perso come un po' lo stronzo quella che stiamo vivendo noi qui attualmente che eravamo rimasti qui e potevamo comprare il terreno di questo pezzente diciamolo pezzente però non c'avevamo più i soldi scade 30.000 aspetta 30.000 c no m sono sicuro? si si cazzo 30.000 punti di tasso non vedrò mai 30.000 ok ok scusa 5.9 una mia distrazione abbiamo 790 punti classic quindi neanche per si vabbè cerchiamo di andare avanti guardiamo le missioni che ci abbiamo si c'è un botto ci abbiamo strano è che è sbagliato il menu la prima volta caccia il gabbiano la lascia insicure le ombre caccia il gabbiano non lo finire ma cazzo ah ok si però è lontana è a Cassardis quindi ok insicure le ombre e la dobbiamo fare però questa terra delle opportunità è questa di adesso del terreno paghi 30.000 paghi 80.000 per cui io la disattiverei tanto quando ci avremmo i soldi si la riattiviamo questa è la ricompensa di 10.000 ad esempio che sono tante figgi 15 o i 5 lupi mannari sicuro dà 3.000 punti esperienze e 10.000 monete devi uscire dal castello e cercare i lupi mannari e così andremo a 15.000 mappa area mappa regione ah cerchi l'uscita vabbè li trovi io penso che qui non ti darà un indicatore perché i lupi te li devi trovare i lupi mannari sicuramente la notte come mannari d'intorni del castello nord perché il lupi mannaro per forza di notte beh lupi mannaro per tradizione sì però il licantropo di notte le vuoto fino a sera lì can troppo lì can troppo poi se puoi per favore puoi mettere pausa che faccio un check della registrazione i check band mi sa che nemmai io non ho comprato questo rinnovo dell'abbonamento fungo del laverna questo ci fanno il namaro sì vabbè stacco il cavetto allora la prossima volta stacco il cavolo alla xbox la giocamo offline era giusto per vedere se potevamo prendere pedine umane per chi ci gioca a sto gioco ancora oggi dopo due anni è vero è una buonissima acqua è l'acqua di Grand Soren la di Rassi vedi ci ha portato anche dei punti quindi metti un attimo pausa quindi vai vai condivisione ma perché fa una foto fa una foto no vedi capcom tutti i diritti di eserbari sulla foto ma che foto ma che è fa nessun game back fa la foto a jimba fuggi no perché se lo fa a bavi a bavi si fa una foto a bavi che tempogno condividi su facebook addirittura cazzo bello vabbè si era un aspetto in più per farlo vedere ai nostri amici che sicuramente gli interessava mai però quindi dobbiamo andare a pescare questi lupi marani o mannari la parte nord del castello che fa sempre poi cazzo è la parte nord c'è una mappa cos'è una mappa allora il nord è sempre oh what si ma qui è la mappa del castello la parte nord quella è nord est per forza la parte nord del castello però il castello non della città il castello della città o è una città a castello cioè di fare attenzione ai vokaboli beh uscimo di qui un po' mappai si poi andiamo lì in quella in quel calanco sai perché non è che c'è solo certi youtube perché usano parole a cazzo cioè serie vokaboli corretti calanco chi non lo sa calanco lo sai quell'insenatura no della roccia si forma con le piogge facciamo vero avanti questo è quell'altra missione eh non l'ho messo però io vabbè non vediamo cosa succede questa è quell'altra missione che devi che dina a lui ma non lo so che è un'evidenziale l'evidenziale al vuoro perché te l'ha fatta vedi con una cazzina segue il sospetto ma l'hai selezionata o te l'ha messa in automatico l'ho messa in automatico inseguire le ombre questo o non si deve accorgere accorgere a sempre salva qui poi non ti puoi accucciare questo è l'unico gioco dove il personaggio non si accuccia o forse si accuccia ma ancora non mi sono scomato il tasto questo è male non corre io tanto loro ci stanno a far sentire le tue pedine come sempre questo è Babilo che porta dei cerchi di legna segnati da qui il punto di interesse sulla mappa quindi attenzione un'altra cazzina va nella piazza della fontana dove eravamo all'inizio praticamente non corre aiuta quel signore a portare la legna così sembra che sei da farato con lui e invece sembra che cazzo e invece sta a seguire l'altro seguilo che qui c'è qualcosa che puzza e non sto parlando dei miei peti guarda guarda si tratta Johnny schivo Johnny Johnny Silence che sta a fa dove va ah va giù dove hai buttato quella guardia nel fiume ti ricordi lì si mi ricordi non so dove potrebbe andare lui nelle prigioni adesso guarda come sfrutta ogni angolo eh ne è bravo eh beh ho fatto tutto il giro dei Grand Soren quello tra l'altro c'è i pantaloni color carne no dove hai ma che sei un Pumitrozobo Pumitrozobo significa puttano mignotto roglio battono zoccolo zoccolo non credo che fosse lì ma credo che fosse lì no per le migliote buono ma poi siete anche te su Rione dei Piacini siamo ad Amsterdam praticamente ma sta bene nel tempo di figa 4 spavosi nel mondo fantasy non c'è dei poteri a me sarà mignotte nessuno che aspetta vedi se sta a guardare se l'ha seguito qualcuno tra l'altro è sicura la casa con queste finestre c'è uno che spia alle finestre non ti dice niente però che devi fare guarda la pocciona è la mia nostra ma dai che c'è in mano preservativo guarda soldi guarda la stronza fa il doppio gioco all'isciamore c'ha voglia di cazzo the big bamboo e questo questo però abbastanza ricchi a puntare ricchi a vi piace la ciccia de porco l'isciamore comunque noi abbiamo un naso acquilino riferisci a chi e chissà invece se tu parlassi con me no sta buona non incasiniamo il gioco come non detto era qui il meterno casa abbandonata no ma sicuramente ti venderà le sue cose cioè non le sue cose l'assorbente usato nel senso tutto va bene sempre e ci fai tutto il proprio che cazzo alzava già levato quella parchetta bianchino vabbè dai ma se un punto interesse il gatto nero traffica oggetti rari che non troverai altrove mai diamo uno sguardo al gatto nero sono sicuro che troverai qualcosa di utile vediamo la pietra del trasporto costa poco si la vanga ti fa riarrestare un'imitazione di cosa lo sai perché si poteva usare con la falsifica gli eravamo la copia falsa probabilmente licenza da ammazzadraghi e che è quell'altra l'altra pergamena no quella è tutto a parte quello non l'abbiamo mai letto quella prima pagina del diario queste non stavano le vendere a un botto se le falsifico no io penso che tu possa falsificare documenti libri dai andiamo alla missione andiamo alla missione lo scrivano del gatto nero può dubbligare gli oggetti che avete ok quindi hai liberato un'area cioè il rione del piacere ok non vogliono lavorare andiamo a fare la missione dai che ci sono du mila di missione per farle tutte ci vorranno sei mesi pietra del cercatore questa è qualcosa che si la vendi beh oppure te da magari ti aumenta che ne so la scoperta di erbe ufficinali oggetti capisci capisci un po quattro e lui quello della missione è a lui si che figlia riferito a lui 7 mila no erano 10 mila aveva detto 10 mila no 10 mila quella 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 con i lupi si si ok prendi un'altra missione dai allora qua così compramo anche la casa almeno vaffanculo va magari riusci a sbloccare quella missione tu spendi 30 mila ma magari te ne ridanno un poche ma quello lì era il ti pagavi i debiti si beh la casa 80 mila cosa c'è si abbiamo da giocato sa quante però magari gli dai 30 mila te da una bella ricompensa sembra una missione remunerativa tangelo questa è Anna si chiama di nome Anna è sposata con Gigi D'Alessio Anna tangelo no tangelo perché arricchisco il gameplay capito queste strunzate queste strunzate cioè che poi tagliate bene speriamo sia all'angolo nord guarda fai scorta di fiasche d'olio lupi quelle su olio no maule riempi d'olio c'era scritto si apre qui dall'altra parte eh vedi butta l'ammellino comunque lì c'era l'olio per riempire l'alterno riempi d'olio ah ok sono tutte piene perfetto poi ci serve una fiasca casomai ma penso che se ti dai a campi qualcuno lo incontrerai ma l'avrò di venerdà mai più no sono scappati non si sa come ah è qui perché il nord è qui questo è il castello che fa il fuoco mettila all'interno eh oh what the ciao